Con quello di stasera, 12 aprile 2023, Antonio Cassano va a ricevere in totale 19 simpatici tapiri d'oro. Staffellino, o meglio Staffellone, infatti consegna un voto a Pio Doro dopo il voto a risposta che nei passati giorni c'è stato raccolti il simpatico José Mourinho, attuale allenatore proprio della AS Roma. Ci sono state infatti battute tra i due, Mourinho dunque è stato letteralmente in condizione di ricevere questo voto a risposta e il simpatico Cassano secondo di più è attapirato letteralmente attapirato, 19 tapiri è lo spettivo più attapirato di sempre, in particolare Cassano spiegherebbe quello che sarebbe accaduto e avrebbe detto che Mourinho andrebbe a soffrire che lui è l'unico in Italia a dire la verità. e poi il buon Cassano davanti a queste notizie sarebbe lasciato andare a delle opinioni relative a José Mourinho, va bene? e insomma diciamo che nella disposizione Cassano non ha avuto per i sua lingua, con vari staffelli che gli insegna il tapiri d'oro, non ha per i tua lingua, si esprime, espone, trasmette il suo pensiero senza sé, senza ma e senza problemi soltanto. dal narratore italiano di Youtube Italia.it iscrivetevi in commenta al canale. grazie